amici e amiche ho effettivamente finito tutto esplorato tutto aperto andiamo a concludere insieme quando il mio canale youtube e qui di marco granzi il nostro canale vi posso fare un sacco di giochi dovevano dirci un tutorial e tantissime tantissime quando non vedo ciao 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 una grazia andiamo tutti nel gioco andiamo a completare il gioco andiamo a platinare il gioco se vi piacciono i platini in parecchi video si spiegano certi platini un po' tanto complicati adesso andiamo qui perchè abbiamo fatto tutti i progetti ci riposiamo e senza la mia voice andiamo a concludere il game e 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 amici amiche the end finito questo capolavoro alla prossima mi raccomando iscrivetevi al canale ciao